Un sospetto stiramento, poi questa è un'edizione che ci sta tutta, attenzione. Cassano per El Sharawi, El Sharawi! Il gol col piccolo faraone, prima che ti inseria, pareggia a Milan. Tanto tuonò che piove effettivamente perché c'erano le avvisaglie di un gol dopo il gol sbagliato da Cassano, comunque parato egregiamente da Andanovic. E qui il passaggio laterale da una posizione estremamente difficile El Sharawi. La messa sul secondo palo qui Andanovic, neanche Andanovic ha potuto far nulla. Classi 92, fa la 19 anni a ottobre Stefano El Sharawi, ma è lui a tirare il Milan fuori da una situazione davvero di grande, grande difficoltà. E il primo gol con il Milan, il primo gol in Serie A dopo cinque partite. Un ragazzo che l'anno scorso ha fatto cose trepitose in Serie B con il Padova. Inizia a incidere anche a livello superiore. Eccolo qui, il gol di Stefano El Sharawi. Calcia benissimo, proprio sul secondo palo, magari non tanto forte, ma estremamente preciso. E quindi Andanovic non può far niente, questo è un talento puro, al di là di questo gol, di questa prestazione, che fino adesso non era stata neanche tanto eclatante, però un giocatore di assoluto valore per il futuro. diciannovese un minuto.